buongiorno a tutti amici di youtube benvenuti con un nuovo video con questo video farò vedere come fare tre stelle nell'ultimo livello della campagna ovvero per il risorbetto questo livello l'avevo già fatto un anno fa però lo rifaccio appunto per per coloro che ancora non hanno fatto tre stelle così sono queste sono le mie truppe dunque andiamo ad attaccare ciao 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 ciao